Sì, che cazzo cazzo, fratello, ci sono già 26 ore in live, ma che cazzo fa? Vai giù, vai a staccare la live, se non mi fa piacere che stai in live, che stongo in live, decida me, li piglia a staccare la live, c'è da buffare le palle, che va a già ricevere, decida me. Non lo so, basta, allora ciao, a dove vuoi? Grazie.